Musica Da Overkids a Catanzaro abbiamo aderito al programma Donacod per dare la possibilità ai nostri clienti di risparmiare sulle spese scolastiche mensa, scuola calcio per il vostro bambino e per le bambine anche scuole di danza Per accumulare i buoni Donacod bisogna scaricare l'app sul proprio telefono registrarsi con l'email, numero di telefono All'interno dell'app si troverà tutta la lista delle strutture che accettano i buoni Donacod e anche la lista di tutti i negozianti che li emettono come Overkids Catanzaro Da Overkids è semplicissimo accumulare i buoni Donacod basta effettuare una spesa e verrà dato un buono in percentuale alla spesa fatta Sull'abbigliamento bambini diamo il 2%, in promozione l'1% Sui prodotti per bambini e gli accessori diamo il 2% in promozione l'1% Gene per bambini il 2% in promozione l'1% Sui giocattoli il 2% in promozione l'1% Sui trio, passeggini, box il 2% e in promozione l'1% Sulle scarpe l'1% Ricevere il buono Donacod è semplicissimo Alla cassa richiedete il vostro buono Lasciateci il vostro numero di telefono con cui vi siete registrati Se volete donarlo lasciate il numero di telefono della scuola Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti